Il final day, direbbero gli angolostassoni, è allora un soffio di vento che è uno dei tre elementi insieme all'acqua e al sole dell'attività della compagnia Valdostana delle Acque per quella che oggi ci porterà in quota alla Madeleine per andare a scoprire sentieri che sono tutta natura. Godiamoci questa ultima tappa e poi già con la prospettiva di rivederci l'anno prossimo perché ci sono ancora tante località valdostane da scoprire sempre insieme alle e-mountain bike e sempre insieme alla compagnia Valdostana delle Acque. Tutto bene, tutto bene. Ci vedremo al lago di Lotte. Super satisfez. E' proprio un giro alcol zero questo, tutte le fontane e neanche un bar. Chi dice che non si fai fatica con le bike, mente o sa di mentire. Spettacolo! Bel giro! Ci siamo emozionati. Abbiamo vissuto quattro tappe intense percorrendo in parte i sentieri e le strade poderali della Valle d'Aosta. Vi abbiamo fatto vedere e scoprire una piccola parte del mondo della compagnia valdostana delle Acque. Continuate a seguirci grazie a nome di C.W.A. Ci vediamo nel 2023. C.W.A. Ci vediamo al prossimo episodio.